Sì, adesso andiamo a prendere la tà. L'ampea un bel. Sì, adesso andiamo a prendere la tà. 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 Sì, adesso andiamo a prendere. Sì, adesso andiamo a prendere la tà. 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 Sì, adesso andiamo a prendere. 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 Sì, adesso andiamo a prendere la tà. Sì, adesso andiamo a prendere. Sì, adesso andiamo a prendere la tà. Sì, adesso andiamo a prendere la tà. Sì, adesso andiamo. Sì, adesso andiamo a prendere la tà. Sì, adesso andiamo a prendere la tà. Sì, adesso andiamo a prendere la tà. Grazie. 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 Grazie.